Buongiorno a tutti e benvenuti alla lezione di Image Processing and Computer Vision del 23 marzo 2020. Oggi ci occuperemo sostanzialmente di MTF, nel senso che la scorsa settimana abbiamo cominciato a vedere, diciamo, la parte più teorica, in particolar modo ci siamo occupati di equalizzazione degli histogrammi, e così anche la settimana prima. Tuttavia adesso, siccome nelle prossime due settimane dovrete in laboratorio occuparvi della gestione della qualità, dell'acquisizione dei sistemi ottici, anticipo la parte relativa alle MTF, poi termineremo la parte sull'equalizzazione degli histogrammi, che non presenta particolari criticità, peraltro l'abbiamo già praticamente vista. Bene, partiamo quindi con le slide del gruppo 3, che sono quelle legate maggiormente alla gestione dei sistemi ottici e alla gestione della qualità delle acquisizioni. Ora, la prima cosa che dobbiamo vedere è questa slide, che nella sua estrema semplicità risulta invece molto importante. In particolar modo, come potete vedere, qui c'è la definizione di contrasto. Ora, la definizione di contrasto è quella che sta alla base della qualità delle immagini. Paradossalmente, quasi tutti i problemi di qualità delle immagini sono legati al contrasto. Vi faccio un esempio. Io ho parlato, se ricordo bene, della corona solare. Ebbene, la corona solare, essendo un milione di volte più debole della superficie solare, ha un contrasto bassissimo. E pertanto è per questo che non si vede, a parte problemi di rumore. Quindi, vedete, qui il contrasto è definito in questo modo, e cioè sostanzialmente la luminosità massima presente nell'area che noi vogliamo considerare, meno la luminosità minima, fratto la luminosità massima più la luminosità minima. Ora, questo contrasto può essere, quindi, un contrasto calcolato su un'area. E quindi questo contrasto può essere calcolato a livello macro, quindi su tutta l'immagine, oppure micro, se voi fate questo calcolo di contrasto su aree di dimensione limitata, piccole insomma. Il contrasto può arrivare a zero. Quando voi avete che la luminosità massima meno la luminosità minima è zero, automaticamente il contrasto diventa zero. Ora, cosa succede? Succede che nel caso, per esempio, della corona solare, la corona solare ha, di fatto, diventa zero e quindi non è contrastata in alcun modo. Nel senso che se voi prendete la regione della corona solare è talmente sovrastata dal resto che non è assolutamente visibile. Il contrasto è fondamentale, tant'è che gran parte dei sistemi di ripresa, telefonini, macchine fotografiche, eccetera, porta con sé i sistemi per aumentare il contrasto. Ad esempio, i telefonini inseriscono, siccome le telecamere, insomma, i sistemi di ripresa dei telefonini hanno il grosso problema di essere piccoli, ovviamente devono essere piccoli perché devono stare all'interno del telefonino che è sottile, pertanto dovendo essere piccoli hanno una lunghezza focale limitata. Se hanno una lunghezza focale limitata il sensore è piccolo e se il sensore è piccolo i pixel sono piccoli e se i pixel sono piccoli possono accumulare pochi fotoelettroni e se accumulate pochi fotoelettroni avete poco dinamica e se avete poca dinamica avete poco contrasto. Il risultato è che le immagini, soprattutto quando c'è poca luce, quindi notturne, sono normalmente non tanto buone. Ora, come hanno fatto a risolvere questo problema? Voi sapete che ultimamente hanno messo in commercio i telefonini in grado di scattare immagini notturne sorprendentemente buone, addirittura in grado di scattare fotografie alle stelle e questo perché? E perché mettono più fotocamere, in modo tale che le varie fotocamere acquisiscano dati in contemporanea e quindi possano pertanto aumentare il contrasto dell'immagine. Ora, innanzitutto proviamo a vedere, allora diciamo che da questo punto di vista c'è un libro che voglio assolutamente che voi vediate, è un libro che c'è nella bibliografia, vedete? Information Visualization, in realtà è un libro abbastanza vecchiotto, è dell'SVE, Perception for Design, l'autore Colin Ware. Questo libro è estremamente interessante, vedremo giusto un paio di cose. Ecco, vedete, qui questa definizione che vi dicevo prima è proprio qua. vedete, Lmax meno Lmin diviso Lmax più Lmin e va bene. Allora voi direte, ok, cosa me ne faccio di questa definizione? Allora, il problema è che quando voi guardate qualcosa, qualsiasi cosa, questa qualsiasi cosa è data sostanzialmente dalla somma di frequenze spaziali e queste frequenze spaziali sono le frequenze sinusoidali, vedete? Ok? Perché? Perché se non fosse una frequenza sinusoidale, per esempio un'onda quadra, un'onda quadra in realtà è formata a sua volta da un numero teoricamente infinito di onde sinusoidali. Ora, cosa significa sinusoidale? Beh, ovviamente se voi siete in una dimensione viene una cosa di questo genere. in due dimensioni, anche se qui viene visualizzato in una, è fatto in questa maniera. Vedete? Si parte dal bianco, tra virgolette, poi si arriva al nero, però con gradualità. Vedete che non c'è un margine netto, perché se voi andaste a graficare questo passaggio, vedreste che è una sinusoidale. Ora, questo è, diciamo, disegnato su una sola dimensione, ma io la potrei disegnare su due dimensioni contemporanea, non è vietato. Ora, cosa mi serve a questo ragionamento? Come vi dicevo, la realtà, così come è percepita dall'occhio o da qualsiasi sistema di visione, è un insieme di frequenze diverse, tutte accumulate tra di loro. E quindi noi, cosa facciamo? Dobbiamo fare l'acquisizione di questo sistema e poi, per ottenere delle informazioni su specifiche bande, dobbiamo fare un filtraggio, come sempre si fa. Ora, guardiamo questo. Questo è molto interessante, questo grafico. Allora, questo grafico, allora, vedete che sostanzialmente l'idea è questa. Se voi guardate questo grafico da 2,3 metri, che non è questo il caso, perché ovviamente qui stiamo usando una webcam da 20 centimetri, se voi lo guardate da 2,3 metri, queste sono le frequenze spaziali. Ok? Va bene, non importa. Quello che conta è che, indipendentemente da questo, qui avete frequenze spaziali più basse. Vedete che per passare dal primo picco al secondo picco c'è molto più spazio che qua. Poi, primo, secondo, sono sinusoidali, vedete che sale lentamente. Terzo, quando voi andate verso l'ordinata a crescere, si riduce il contrasto. Cosa vuol dire il contrasto? Come dicevo prima, da questa formula qua, quella che abbiamo visto nella slide, Lmax è qui, Lmin è qua, quindi voi fate Lmax meno Lmin diviso Lmax più Lmin. Voi capite che qui il contrasto è massimo, poi per carità questo non è bianco, questo non è proprio completamente nero, però il contrasto è buono. Allora, man mano che voi andate in su, la differenza che c'è tra la base e il picco, scusate, tra il picco e la base, perché il picco sarebbe bianco, e la base della sinusoide, si riduce, infatti vedete che man mano diventa sempre uguale a un certo punto. Qui sono tutti uguali. Ora, non è tanto questo che ci interessa, quanto il fatto che se voi guardate l'immagine, vedrete sovraimpressa una specie di curva fatta così. che non esiste. Ora, cosa è dovuta, anzi in realtà a me così, vista così, sembra più fatta così. Allora, cosa è dovuta a questa curva? È dovuta al fatto che l'occhio umano è più sensibile alle frequenze intermedie, è poco sensibile alle basse frequenze, ed è pochissimo o nulla sensibile alle frequenze alte. Infatti vedete che la curva fa una cosa del genere, e poi qui precipita. Quindi, i dettagli voi non riuscite a vederli. Le frequenze basse non riuscite a vederle, le frequenze intermedie sono quelle che voi riuscite a vedere il meglio. Ok? E, tanto più è alto il contrasto, tanto più riuscite a vederle. Quindi, per esempio, qui che abbiamo un livello massimo di contrasto, riusciamo a vedere anche una frequenza spaziale bassa, e riusciamo anche ad intravedere abbastanza bene frequenze spaziali più elevate. Questa è una peculiarità, perché naturalmente per un computer una frequenza spaziale bassa va benissimo, non rappresenta nessun tipo di problema. Mentre invece per l'occhio umano non è così. Ora, volevo ancora solo farvi vedere un paio di grafici, molto velocemente, da questo libro. Allora, vedete, data la frequenza spaziale in cicli per grado. Ok? Quindi significa che ogni grado avete un certo numero di cicli. Vi ricordo che ciclo significa tutta la sinusoide. Ok? Ebbene, vedete che quando la frequenza spaziale, vedete questa, non è altro che la curva che abbiamo visto prima. Ora, quando la frequenza è molto bassa, non si riesce a distinguere bene. Poi la frequenza sale, arriva a un certo livello, e si ottiene il picco di riconoscimento. E poi, man mano che aumenta la frequenza, si riduce la capacità che a questo punto crolla rapidamente. Notate anche la differenza tra 20 anni, 50 anni, 80 anni. Man mano che si invecchia, però ovviamente si perde la sensibilità. Ok? Quindi, questa è una cosa curiosa, dal punto di vista della computer vision, questa parte invece è insignificante, perché le frequenze spaziali basse vengono viste regolarmente dal computer, che non ha questo tipo di problemi. Ok? E infine, volevo ancora farvi vedere un altro grafico, anch'esso molto interessante. Ecco qua. Vedete? Qui abbiamo... È un grafico un po' più complicato, perché qui abbiamo la nostra frequenza spaziale e qui abbiamo una frequenza temporale. Ok? Quindi, cos'è una frequenza temporale? È per esempio qualcosa che lampeggia. Ok? Fate conto, per esempio, l'indicatore di direzione di un'automobile. E questi sono ovviamente hertz. E questo è un contrasto. Ora, che cosa succede? Succede che poi, in queste isoline, c'è il contrasto. Quindi, cosa significa? Significa che il contrasto necessario per la visibilità è strettamente sufficiente, perché poi dopo è ovvio che più ce n'è meglio è, vedete che qui è molto basso, e cresce man mano che ci si allontana da questa zona ideale. In altri termini, se voi volete realizzare, dal punto di vista della percezione, un dispositivo che lampeggi o comunque in generale qualcosa che si faccia notare, dovete mettere una frequenza spaziale intorno ai 2-3 cicli per grado e poi vi conviene farlo lampeggiare intorno ai 2 hertz. Ok? Ora, se ci fate caso, 1 hertz, 2 hertz, vedete, una cosa di questo genere. Ora, se ci fate caso, per esempio, l'indicatore di direzione e anche le spie sul cruscotto dell'automobile, se andate a fare i conti, sono proprio in questa zona. Ok? Quindi questo, ripeto, dal punto di vista percettivo, perché noi per la parte di Computer Vision ovviamente non abbiamo questo tipo di problema perché il computer non ha, non risponde a questo tipo particolare di grafico. Quindi, abbiamo visto sostanzialmente che il contrasto può diventare 0 quando lmax meno lmin è uguale a 0 e, vedete, è impossibile a questo punto vedere le barre dei test, per esempio quello della figura sul where, quando il contrasto è troppo basso. Ok? E viceversa, quando è impossibile vedere le sbarre, le barre, il contrasto è nullo. Quindi il contrasto è paradossalmente quello che è il parametro forse più importante in assoluto. Il contrasto può venire gestito in varie maniere e, come vi dicevo prima, i cellulari, a causa dei loro problemi costruttivi, hanno in generale, utilizzano in generale degli algoritmi integrati per aumento del contrasto. In particolare utilizzano un algoritmo che si chiama Unsharp Mask, che vedremo più avanti. e la Unsharp Mask serve appositamente per aumentare il contrasto. In questo modo, aumentando il contrasto, l'immagine sembra più bella. Vi ricordo ancora una volta che le immagini trattate con algoritmi di vario tipo sembrano più belle, nel senso che sono più facili da vedere all'occhio umano, ma i dati contenuti all'interno sono comunque sempre gli stessi. Ovviamente non possono venire incrementati dal trattamento delle immagini, anzi, normalmente, effettuando un trattamento di immagine si perdono anche dei dati, nel senso che ogni trattamento può danneggiare i dati. Avete visto con gli istogrammi, quando io applico delle equalizzazioni degli istogrammi, ovviamente danneggio l'istogramma. Questo danno è tanto più ridotto quanto maggiore e ovviamente la dinamica possibile, quindi se io ho 16 bit, ragionevolmente avrò un segnale più ricco che pertanto si farà danneggiare di meno. Bene, passiamo dunque a vedere dei sistemi per effettuare queste misure, perché è esattamente quello che noi vogliamo fare in questo laboratorio. Ora, questa è una chiamata USAF chart, la vedremo tra poco, però io comincerei da quest'altra, che invece è chiaramente quella che utilizzerete in laboratorio. Si chiama, è uno standard, è dell'ISO, quindi International Standard Organization, 12.233. Sul testo del laboratorio c'è un link dal quale voi potete scaricarlo, perché questo è uno standard internazionale, viene utilizzato per testare tutte, per esempio le telecamere, le macchine fotografiche digitali, qualsiasi dispositivo ottico, soprattutto lato industriale e anche lato consumer ed è uno standard, adesso vi spiegherò brevemente in cosa consiste, e lo standard è a pagamento, perché quasi tutti gli standard vengono pagati, cioè se lo desiderate, lo pagate. E lo standard è scritto, nel senso che vi dice esattamente cosa fare. Quindi avere un'immagine dello standard, quindi che mappi lo standard, è una cosa che si ottiene a pagamento. Per esempio la Edmund Optics vende stampe di questo oggetto, facendole pagare anche molto care, tipo 200-300 euro, e questo pagamento è giustificato dall'elevata qualità della stampa. Ora in realtà a noi non serve tutta questa elevata qualità e quindi ci accontenteremo di avere una stampa fatta con una normalissima stampante. Ok, allora diciamo che siccome qualcuno di voi mi ha detto che non ha la stampante a casa, allora per quanto riguarda la seconda parte, quella con MTF Mapper, non c'è problema, si possono usare anche altre mire, che adesso poi vedremo, ci si arrangia facilmente. Per quanto riguarda il test sull'ISO 12-233, non c'è soluzione, nel senso che bisogna per forza stamparla. Se proprio voi non potete stamparla, si può visualizzare sul video del computer e poi fotografare il video del computer. Questo però con delle precauzioni, perché altrimenti voi andate a misurare la frequenza spaziale, ma risultate per così dire disturbati dal monitor. Quindi, adesso lo vedremo meglio. Allora, cominciamo subito a vederlo. Eccolo qua. Allora, vedete che io ne ho una copia stampata. Ora, come funziona questo oggetto? Vedete, non ci sta completamente nell'inquadratura, anche perché c'è il sole, insomma. Ci sono, ovviamente, non è così facile da mostrare. Ora, vedete che innanzitutto qui ci sono, giriamola per così, vedete? Questo è stato realizzato da un signore di un'università partendo dallo standard e poi gentilmente questo signore l'ha messo a disposizione per tutti ok? Gratuitamente. Vedete? E' boh. Ed è della O'Connell University. Ora, in cosa consiste questo disegno? Questo è stato stampato con una normalissima stampante laser se l'esercitazione fosse stata svolta al laboratorio chiaramente voi l'aveste stampata con la stampante della bifo ma chiaramente qui è impossibile. Ora, innanzitutto vedete che è molto lunga e stretta perché questa? Perché è fatta per testare dispositivi in 16 noni per esempio sapete che la gran parte delle telecamere oggi lavora in 16 noni poi dispositivi in tre mezzi per esempio le vecchie macchine fotografica pellicola oppure le full frame 4 terzi per esempio gran parte delle telecamere industriali 1,1 quindi quadrato e di qua vedete che ci sono gli equivalenti 1,1,4,3,3,2,6,9 quindi questo significa che queste doppie freccette indicano dove deve finire e qui in altezza dove deve finire quindi chiaramente se questo è 1,1 voi avrete che sostanzialmente questo è quadrato ok? non sembra forse tanto dalla webcam ma è quadrato ok? ora dopodiché oltre a questo qui voi avete tutta una serie di dati interessanti per esempio avete queste barrette che vanno a congiungersi ovviamente tutto quello che c'è qui dentro è stato studiato per motivi molto precisi ok? per esempio il fatto che queste barrette siano lievamente inclinate è ovviamente fatta apposta ora qui noi abbiamo per esempio che queste lineette sono vanno a congiungersi anche queste anche queste anche queste mentre queste invece sono tutte parallele e hanno una certa vicinanza ora se io avvicino questo foglio alla webcam dopo qui abbiamo anche problemi di illuminazione con il sole ecco qua vedete che se io lo avvicino molto riesco ovviamente a mettere a fuoco dettagli più piccoli vedete come è fatto però il problema numero uno di queste mire è che vanno stampate con una qualità quanto più possibile elevata ok? ora prendiamo per esempio un lentino di ingrandimento e cerchiamo di vedere qual è la qualità di stampa di questa mira ok? allora io adesso mi metterò il più possibile vicino andrò a cercare di inquadrare in qualche modo un angolo ci detti aspettate un attimo un attimo un attimo un attimo un attimo Grazie. Ok, come potete vedere siamo passati dall'illuminazione naturale a quella artificiale, che non è il massimo, ma se non altro non abbiamo più problemi. Ok, allora, avviciniamoci quanto serve. Ecco qua. Ecco. Riuscite a vedere come l'immagine è stata stampata? Ora, vedete che è stampata con un retino tipografico e siccome qui abbiamo più che discreto ingrandimento, vedete che si vedono tutti i dettagli della carta, si vede che la riga in realtà non è continua. Ed è ottenuta ovviamente tramite una giusta posizione di puntini. Ora, questo fa sì che la qualità di stampa sia importante. Quindi, vedete, se voi volete fare questi test, la qualità di stampa deve essere buona. Più buona è, meglio è. Ok, ora, se, come ragionevole supporre, voi non riuscite ad avere una qualità di stampa ottimale, perché vedete questa è stata stampata con una buona stampante laser, ma non togliere la qualità di stampa non è eccezionale, ovviamente sarete limitati. Limitati da cosa? Limitati dalla massima risoluzione. Perché come funziona questa mira? La mira funziona in modo molto semplice. Allora, l'idea è quella che io dovrei cambiare l'inquadratura in modo tale da far sì che il bordo superiore e inferiore, vedete questo è un 16 noni, questa telecamera è un 16 noni perché è una webcam, vedete io devo fare in modo tale che il bordo superiore della fotografia, del frame, sia qua, al confine, no? e il bordo inferiore sia qua, poi a seconda che sia, se è un 16 noni arriverà fin qua e di qua, altrimenti arriverà per esempio qui se è un 4 terzi, oppure qui se è un 3 mezzi, ok? Dopodiché, altro problema, vedete che qui la webcam non è perfettamente in piano, perché vedete che qui è un po' inclinato, questo è dovuto a come sto gestendo io questa cosa per far funzionare il tutto. Quindi, essendo un po' non in piano, cosa significa? Significa che qui ha fuoco e qui non è a fuoco, vedete che qui non è a fuoco, tant'è che se io correggo la messa a fuoco, vedete adesso va a fuoco qua e ovviamente va fuori fuoco qua, ok? E fin qua ci siamo. Poi ci sono altri problemi. Ora, quindi innanzitutto il mio problema principale è che io devo essere sicuro che la qualità di stampa sia abbastanza buona da non inficiare la misura, come sempre, ok? Uno strumento di misura deve essere abbastanza buono da avere una precisione di misura maggiore, migliore di quello che io voglio misurare, se no misuro lo strumento, non misuro quello che voglio misurare. Allora, una volta ottenuto da una stampa veramente buona, io cosa vado a guardare? Come vi dicevo, faccio combaciare questo bordo con la parte superiore, questo bordo con la parte inferiore e poi vado a vedere queste, per esempio guardiamo queste che sono messe, vedete, con frequenze verticali, vado a vedere qua e vedete che io qui riesco a vedere, corregiamo al massimo la messa a fuoco, ecco qua, vedete che io qua riesco a distinguere tra di loro, a occhio, le varie linette. Quindi vuol dire che qui ho 5, 6, questo è il 6, vedete, qui sarebbe il 6, poi io potrei partire di qua, rimetto di nuovo a fuoco con la massima precisione, ecco, vedete che il 6 si vede, il 6 e mezzo, anzi il 7 si vede ancora e poi finisce lì. Qui cominciano altre cose che vedremo adesso. Bene, quindi significa che io ho 7, viene 7, prendo il numero 7, vale per tutti i numeri che ci sono qui sopra, quindi anche questi qua, prendo il 7 e poi quelle sono centinaia di linee in verticale, quindi significa che se questi qui combacciassero con il limite qua e questo combacciasse con il limite superiore, io vedrei su tutta la verticale con la mia webcam 700 linee, ok? In verticale. Ora, però, come potete vedere qui non combaccia, ok? Allora, non combaccia perché ci sono dei problemi, ok? Innanzitutto il piano è piano, ma il piano della webcam non è piano, quindi dovete assolutamente verificare questo. Come fate a verificare una cosa del genere? Un trucchetto che viene usato è mettere uno specchietto piano qua, e voi con la webcam dovete vedere voi stessi, anzi la webcam, centrata al centro dello specchietto e al centro del monitor, perché in questo modo si ottiene un perfetto centraggio, perché il problema è che l'asse della webcam, che viene giù così, deve essere perfettamente ortogonale al piano del tavolo, cosa che qua per esempio non è vera e quindi produce questo tipo di effetti. ovviamente poi ci sono, possono esserci anche dei problemi della webcam o in generale del sistema di fotografico. E poi abbiamo anche delle altre cose che non so se si vedranno ancora nel filmato. Ora, guardate, guardate qui. Allora, proviamo a mettere meglio a fuoco. Ecco, vedete i colori? Vedete quando io muovo? Vedete che ci sono dei colori? Quindi, questi colori ovviamente non esistono, perché la mira è in bianco e nero. E se io sfoco leggermente, i colori spariscono. Ok? O si attenuano molto e poi a un certo punto spariscono proprio. Allora, a cosa sono dovuti quei colori? I colori sono artefatti dovuti ad agliasing spaziale, legato al fatto che la webcam è a colori, ma i pixel su di un sensore, non esiste un sensore a colori, fatto salvo il Foveon, e pertanto non c'è motivo, non si può costruire un sensore veramente a colori come la pellicola, a parte appunto il Foveon, pertanto i sensori vengono fatti giusto apponendo pixel rossi, verdi e blu, e a questo punto la frequenza spaziale di questi pixel rossi, verdi e blu non è più sufficiente, e si creano questi artefatti colorati, quindi questo è agliasing colorato, ok? Inoltre, c'è anche agliasing che non è colorato, per esempio quello. Allora, proviamo a catturarlo per vedere meglio. Allora, io qui scatto una fotografia, poi faccio così, dopodiché lancio il Gimp, open, allora credo che fosse dentro a, forse qui dentro, sì, eccola qua. Ah, un'altra cosa, vedete che qui ho preso un'immagine in JPEG, ma ovviamente usare JPEG è una stupidaggine, perché il JPEG è segnato, è caratterizzato da una compressione con perdite, e quindi vi va a perdere i dettagli, quindi per favore salvate, usate una macchina fotografica che vi permetta di salvare non in JPEG, ok? Qualsiasi altro formato, per esempio TIFF, PNG, però non, cioè compresso, ma benissimo, ma non compresso con perdite. L'ideale è utilizzare o una camera industriale, però non credo che ce l'abbiate, oppure una macchina fotografica in grado di generare dei RAW. Bene, andiamo a vedere, adesso qui possiamo ingrandire, perché abbiamo scattato la fotografia. Ecco, allora guardate qua. Allora, vedete, questi artefatti, innanzitutto cominciamo da qua, vedete? Vedete che intorno al 5 ci sono degli artefatti? Questi artefatti sono dovuti al JPEG, ok? Perché lui, per risparmiare spazio di compressione, ha rimpicciolito l'immagine, quindi questi voi non dovreste averceli. Vedete che l'istogramma è diviso per bene in due parti, questo è il nero e questo è il bianco, l'esposizione fatta dalla webcam è corretta, inoltre vedete che il bianco è in là, ma non troppo in là. Ok, andiamo pure in qua, e andiamo a vedere, vedete qua l'aliasing colorato, che si vede perfettamente, adesso a questo punto qui, anche nel filmato si dovrebbe vedere senza problemi, ma a parte l'aliasing colorato, si ha anche aliasing tipo questo per intenderci, ecco qua, vedete? Vedete che qui c'è dell'aliasing colorato, però c'è anche dell'aliasing non colorato, quindi queste sono figure che naturalmente non esistono. Ora, il fatto di vedere queste figure, vedete qui è ancora peggio, se vado a inquadrare qua sotto, ok? Vedete che ci sono colori, c'è di tutto, vedete addirittura se voi andate a guardare qua, vedete le sbarre, sembra che vadano al contrario, cioè anziché andare per così, vedete qui cominciano a esserci dei disturbi, qui vanno al contrario, qui addirittura sono colorate, vengono messe per così, qui vengono messe per così, qui vengono messe per così, questo è tutto aliasing, dopodiché vedete che si riduce la frequenza spaziale, si ricomincia ad intravedere qualcosa, e poi qua si ridete di nuovo qualcosa, ok? Quindi, questo significa che il vostro sistema, se voi volete riuscire a misurare questo, diciamo, questa qualità, dovete per forza di cose riuscire a stampare nel modo migliore l'oggetto. se la stampa non è tanto buona, come peraltro anche in questo caso, oppure peggio ancora, se non riuscite a stampare e vi dovete limitare a inquadrare il monitor, l'unica possibilità è mettersi ad una certa distanza, perché se io mi metto a una certa distanza, i difetti non si vedono più, è evidente, no? basta che io mi metta a una distanza sufficiente, i difetti non si vedono più. Il problema è che come faccio a capire che i difetti non si vedono più? Beh, è semplice, analizzo l'immagine, posso anche fare delle proporzioni, qualche calcolo, però se voi vi mettete, per esempio, a una distanza significativa, non ci sono problemi. Allora, qual è la distanza significativa? Per esempio, se voi lo stampate su carta, oppure addirittura se lo visualizzate su video, poi a quel punto non potete più permettervi di avere questa linea corrispondente con l'immagine superiore e questa corrispondente con l'immagine inferiore. Dovete inquadrarla in modo tale che questa immagine sia molto più piccola, per esempio, sia grande così, tanto per dare l'idea, quindi sia per esempio un terzo, un quarto in verticale, anche un quarto, un quinto del totale. Allora, a questo punto però, questi numeri, che senso hanno? Continuano ad avere senso, però voi dovete effettuare dovete andare a fare una misura di questa, quindi per esempio dovete andare a misurare da qui a qui, ok? Per esempio voi misurate, vedete? Da qui a qui vedete che è 890 pixel, ok? Mentre chiaramente tutto quanto il complesso è 1080, perché questo è un Full HD, questa webcam, quindi significa che voi dovete fare 1080 diviso 890, verrà poco più di 1, ok? E i numeri che leggete qua, mettiamo che venga 1,2, i numeri che leggete qua li dovete moltiplicare per quell'1,2. Quindi, se voi inquadrate questa mira molto piccola, quindi per esempio che occupi soltanto un quarto, un quinto dello schermo, lo potete fare, però dovete calcolare la dimensione massima, che è questa è quella che dipende dalla vostra macchina fotografica, poi dovete andare a misurare l'altezza, vedete, da bordo a bordo, fare la divisione e moltiplicare il numero che avete ottenuto per i numerini che vedete qua. Quindi per esempio se questo fosse molto piccolo e tutto quanto, cioè da qui a qui occupasse solo faccio un'ipotesi 200 pixel, voi dovreste fare 1080 diviso 200 che fa circa 5 e quindi se poi voi riuscite a vedere il 6, faccio un esempio, diventa 6 per 5, 30 che sono centinaia di linee verticali e quindi diventerebbero 3000. Ok, però c'è un problema, se io aumento, se io aumento l'ingannimento, cioè metto questa mira molto lontana, che cosa succede? Succede che innanzitutto non ho più tutto questo livello di dettaglio perché gran parte, per esempio tutta questa parte qui e questa parte qui diventeranno inutili perché sicuramente non li vedrò mai, quindi potrò utilizzare soltanto questa parte qui proprio perché in questo modo non ho problemi con i difetti e quindi avrò meno precisione nella misura e questo chiaramente è un problema, però è chiaro che non potendo fare altrimenti uno fa così. l'ideale ovviamente sarebbe quello di effettuare una stampa ad alta qualità. Le stampe a qualità migliore si fanno sicuramente con l'aggetto d'inchiostro perché la laser tende, come abbiamo visto, a utilizzare il retino tipografico e quindi non dà risultati di solito ottimi. L'aggetto d'inchiostro funziona meglio, peraltro anche la laser, questo è stato stampato con una laser e va benissimo. Ok? Quindi la regoletta generale che dovete fare e che dovete seguire è inquadrate l'oggetto, dovete essere perfettamente ortogonali, questo per esempio non è il caso, perfettamente ortogonali, dovete avere una messa a fuoco perfetta, ok? Quindi se potete ingrandire l'immagine per fare la messa a fuoco fatelo, l'autofocus lascia il tempo che trova, nel senso che non necessariamente effettua la messa a fuoco migliore, quindi dovete verificarla manualmente e chiaramente se avete solo una webcam non potete cambiare, in realtà questa webcam ha la messa a fuoco manuale in effetti, dipende dalla webcam e quindi avete quel problema lì, l'immagine deve essere perfettamente ferma perché basta che vi sia un piccolo movimento e viene mossa perché qui noi abbiamo visto problemi legati allo sfocatura, alla non planarità ma non il mosso, il mosso non abbiamo problemi perché la webcam è montata su un treppiede che ovviamente non si muove, ma se voi scattate la fotografia a mano libera potreste benissimo avere dei problemi di movimento e pertanto questi problemi di movimento vi potrebbero rovinare la fotografia perché voi andate a misurare qualcosa che è sbagliato, ok? Dopodiché come vi dicevo questo e questo questo e questo e anche tutti questi vi permettono di andare a calcolare le centinaia di linee sulla verticale visibili con quel sensore ora che cosa succede? Succede che se il mio sensore in verticale ha per esempio in questo caso ne ha 1080 perché è un full HD ok? Quindi io mi aspetterei qua di arrivare a vedere di arrivare qua vedete? Però non ci arrivo e vedete che posso già essere ben soddisfatto se considero notate che questo è un test di tipo soggettivo il test oggettivo lo faremo la prossima settimana ok? Cioè nella seconda parte dell'esercitazione e vi metterò la video lezione anche legata a quello quindi questa parte vedete che qui arriviamo più o meno a 700 linee sulla verticale e un po' di più perché come potete vedere qui non sono da bordo a bordo facciamo 750 però non di più dovrei arrivare a 1000 anzi a 1100 quasi 1100 ok? Perché non ci arrivo? Non ci arrivo perché questa è una webcam quindi non ha certo una qualità di immagine eccezionale e poi il motivo principale per cui non ci posso proprio arrivare è che questa immagine è salvata in JPEG e la webcam non mi permette assolutamente di salvare con altri formati per cui non vado a nessuna parte sono obbligato a prendere il JPEG che ha i suoi difetti stessa cosa se voi scattate col telefonino a meno che utilizzate telefonini un po' buoni dal punto di vista fotografico allora a quel punto probabilmente riuscite a fare un po' quello che desiderate riuscite a ottenere dei buoni risultati la messa a fuoco è sempre critica però lo scopo principale di questo laboratorio è nella prima parte far sì che voi vi rendiate conto che ci sono problemi molto seri anche soltanto non scattare una foto o un pezzo di carta ok perché ci sono problemi di messa a fuoco di complanarità di vibrazioni un sacco di problemi ok di esposizione perché vedete qui la webcam mi ha diciamo mi ha preso l'esposizione giusta ma potrebbe anche non essere così ok quindi anche quella voi dovete regolarla anche l'illuminazione perché vedete che come avete visto noi qui siamo passati dall'illuminazione solare diretta che era molto forte ma non andava bene a un'illuminazione dovuta alla lampada da tavolo ma siccome la lampada da tavolo è qui sulla sinistra della mira mi aspetto che questa parte sia più illuminata di questa come possiamo fare a vederlo andiamo qua facciamo auto equalizzazione eccolo qua vedete come si vede si vede molto chiaramente che questa parte è più illuminata dalla lampada da tavolo infatti siccome questa è una lampada luce tra virgolette calda vedete che è un po' rossastra questa parte risente molto meno della luce della lampada da tavolo invece risente di più della luce del sole che filtra dalla finestra semi aperta ok quindi è più bianca quindi più colorata più giallognola più giallastra più bianca quindi vuol dire che per non parlare di questa zona intermedia dove non si capisce bene cosa succede quindi questo significa che annotate l'istogramma come brutto è veramente pessimo perché è dovuto al fatto che noi abbiamo actualizzato un'immagine in jpeg su 8 bit che è il peggio ok bene quindi quello che volevo dirvi è che un'altra delle cose che dovete controllare con la massima cura è la distribuzione più uniforme possibile della luce come faccio a ottenere una distribuzione uniforme della luce e devo mettermi lontano dalla fonte di luce quindi per esempio il sole produce una luce molto uniforme ok qui il mio problema è che c'erano degli oggetti che facevano ombra perché altrimenti il sole produce una luce molto uniforme perché il sole arriva non dico da infinito ma quasi e quindi i raggi del sole sono praticamente paralleli e quindi essendo praticamente paralleli danno un'illuminazione perfettamente uniforme ah poi dimenticavo c'è un altro fattore vedete che qui al centro l'immagine è un po' più chiara e qui ai bordi è un po' più scura questo si chiama caduta di luce ai bordi ed è un difetto della telecamera quindi siccome anche questo anzi dell'obiettivo in questo caso un difetto barra caratteristica un po' più complicata la faccenda comunque questo significa che soprattutto negli angoli estremi c'è una caduta di luce quindi qui abbiamo un sacco di problemi di illuminazione due fonti diverse di luce la caduta di luce e come si fa diciamo a risolvere questo tipo di problemi non è così facile bisogna avere un'illuminazione quanto più possibile uniforme e poi per quanto riguarda la soluzione del problema della disuniformità dell'illuminazione l'unica soluzione è quella di utilizzare la divisione tra immagini cioè fare quello che si chiama flat field che vedremo più avanti comunque a livello di laboratorio a me interessa che voi capiate molto bene i concetti legati a queste scale ok quindi tutte queste scale che voi vedete servono tutte a calcolare lungo varie direzioni anche per esempio lungo le diagonali ai bordi ok dove capita insomma invece queste barra inclinate ci serviranno per la seconda parte dell'esercitazione con MTF mapper perché sono inclinate per poter calcolare l'MTF sulla sullo spigolo perché ripeto noi qui calcoliamo la risoluzione del sistema in modo soggettivo perché ovviamente se io inquadro qua e sono io che decido che si vede la 7 notate tra l'altro che l'equalizzazione ovviamente ha danneggiato l'immagine come vi dicevo vedete se io faccio eccolo qua CTRL Z un po' di volte vedete che si vede un pochino meglio ok ora sono io che decido di arrivare fino a 7 però se io fossi più esigente direi che arrivo solo fino a 6 perché fino a 6 si vede meglio fino a 7 è proprio borderline però se io fossi molto pignolo deciderei che si arriva solo a 5 ok questo dipende quindi è una verifica di tipo soggettivo e come tutte le verifiche di tipo soggettivo chiaramente è soggetta a errore come si fa a risolvere questo problema si dà la verifica di tipo soggettivo sempre alla stessa persona che dovrebbe più o meno gestire la faccenda sempre con gli stessi parametri e in tal modo si risolve gran parte del problema bene quindi un attimo solo allora un attimo ancora no vabbè come non detto va bene come non detto allora torniamo qua quindi diciamo che abbiamo visto tutto quello che ci serve per il laboratorio ora qua vediamo ancora qualche dettaglio su questa cosa allora vedete che questa standard ISO è uno standard per testare differenti sistemi dovrebbe essere comprato insomma tutte queste cose le abbiamo visto notate che notate che c'è anche agliasing nella stampa stessa ok per cui se voi stampate con una stampante di media qualità e stampate un motivetto molto settile molto fine compare l'agliasing sulla stampa stessa ora voi direte come facciamo a vedere questo agliasing bene ok riesco a farvelo vedere allora passiamo un attimo di nuovo sulla webcam ecco qua allora ecco qua allora vedete qui la mira è stata stampata con buona precisione ok nel senso che è la massima precisione che posso ottenere però guardate qua vedete ebbene come potete vedere vi sono delle linee più scure e delle linee più chiare e questo non è normale perché dovrebbero essere tutte uguali questo è dovuto a un principio di agliasing dovuto al fatto che la stampante non riusciva a stampare con buona precisione con sufficiente precisione guardate un altro esempio vedete anche qui la stampante era al suo limite vedete anche qui ok quindi non riusciva ad effettuare una stampa corretta è chiaro che se voi pensate di utilizzare quella zona lì vedete lì c'è scritto 9 se voi pensate di utilizzare quella zona lì chiaramente non potrete ottenere dei risultati corretti stessa cosa anche qui vedete stessa cosa quindi questo significa che noi abbiamo che le mire sono soggette ad errore di stampa inoltre abbiamo tutta una serie di errori nella procedura di acquisizione gli errori nella procedura di acquisizione ci interessano proprio in questo laboratorio se è quello che noi vogliamo misurare gli errori sulla stampa invece vorremmo non averceli siccome è impossibile non averceli l'unica soluzione è metterci a una certa distanza ok è proprio per questo che una mira stampata su una stampante laser normale va bene perché tanto il range di risoluzione che si ottiene è comunque tale per cui non si non si arriva mai nella zona diciamo affetta dall'agliasing poi qui è spiegato quello che vi ho raccontato prima ecco vedete l'immagine presa con la camera digitale non dovrebbe contenere colori perché in bianco e nero la stampa invece ce l'ha ci possono anche essere difetti dell'obiettivo per cui potrebbero esserci dei colori che non sono solo dovuti all'agliasing ma dovuti ad aberrazione cromatica in questo caso il problema è relativamente ridotto ok bene il problema successivo è come faccio a ottenere un numero perché ho ottenuto un numero ma in questo caso il mio numero è di tipo soggettivo e non è esattamente quello che mi piace di più volevo un numero oggettivo questo dunque è quello che vedremo nella prossima settimana ora prima di finire con la lezione di oggi volevo però farvi vedere una cosa che però in tutto questo bailamme non riesco più a trovare ok lasciatemi ancora un minuto non riesco a trovare non riesco a trovare ecco qua ecco qua trovato allora come vi dicevo la prossima volta partiamo con il calcolo oggettivo e quindi con il calcolo dell'MTF però adesso volevo che adesso vedremo in cosa consiste naturalmente vediamo invece un'altra cosa e cioè sostanzialmente una mira cosiddetta USAF dove USAF sta per United States Air Force voi direte cosa c'entrano le forze aere americane con l'MTF e comunque le misure degli obiettivi perché il problema è che siccome come voi capite loro avevano l'interesse di scattare fotografie da satellite o comunque da aeroplani e da sistemi del genere e dovevano verificare naturalmente la qualità di queste immagini e quindi avevano sviluppato questo sistema che è questo allora ecco qua allora vengono utilizzate delle mire come questa vedete questa è una mira della Enmond Optics poi adesso capiremo bene cos'è questo però ecco qua questa è la mira allora proviamo a metterla su un foglio bianco perché se no non si vede bene eccolo qua ok ora come funziona come funziona questa mira vedete che è un pezzo di cristallo ok è di altissima qualità naturalmente perfettamente più in parallelo su cui è stato depositato del cromo che è quello che impedisce la luce di passare quindi risulta nero ok quindi qui in realtà lavora un po' per riflessione infatti si riesce a vedere vedete il treppiede che sostiene la webcam con la webcam ora a cosa serve questo serve perché vedete come è fatto ci sono delle lineette allora proviamo a metterci il più vicino possibile cercando di tenerlo più fermo che si può eccolo qua allora vedete che ci sono dei gruppi per esempio il gruppo 1 ma vedete che si parte dal meno 2 ok per esempio il gruppo 1 ci sono le lineette 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 poi c'è il gruppo 2 il gruppo 3 adesso proverò ad incrementare ulteriormente in tale da metterci praticamente attaccati vediamo cosa è in grado di fare la webcam ecco la webcam riesce a vedere sicuramente il gruppo 4 io direi che riesce a vedere il 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 e 4 6 li vede tutti e vede anche qualcosina del 5 poi vedete che all'interno ce ne sono degli altri c'è anche il 6 e il 7 diciamo che vede il 5 1 ok naturalmente adesso è completamente fuori fuoco io rimetto fuoco ok quindi ha visto il 5 1 cosa vuol dire che ha visto il 5 1 cosa vuol dire innanzitutto che l'ha visto vuol dire che noi siamo riusciti a distinguere anche questo è un test soggettivo vuol dire che è riuscito a distinguere le lineette le une dalle altre notate che queste non è sinusoidale sono onde quadre ok che quindi come tali hanno i loro problemi ora se noi andiamo a guardare qua allora cosa succede succede che noi abbiamo visto il 5 1 quindi 5 1 5 2 5 6 5 1 vedete che qui c'è scritto 32,0 32 questi cosa sono? cicli al millimetro significa che siccome un ciclo è formato da una barretta nera cioè quella di cromo è una barretta bianca cioè il vetro trasparente significa che su di un sulla webcam avvicinandosi moltissimo potrebbe essere che avvicinandosi ancora di più si riesca anche a fare meglio si arriva a 32 cicli al millimetro cioè 64 linee al millimetro quindi significa sostanzialmente che la nostra webcam è in grado di vedere diciamo che se noi facciamo il conto con la calcolatrice ok facciamo quindi sostanzialmente vedrebbe sono si vede come vi dicevo 64 linee al millimetro ok quindi 64 linee al millimetro se noi facciamo 1000 diviso 64 vuol dire che vede degli oggetti da 15 micron ok e non è male ok 15 micron significa 1,5 centesimi di millimetro invece da questa distanza ovviamente vede molto meno tra l'altro perché qua ci sono i vari problemi delle riflessioni se io guardo occhio da una distanza di diciamo 40 centimetri perché poi io ovviamente non sono più un ragazzino diciamo che io riesco a vedere distintamente l'1,6 e intravedo vedo decentemente il 2,1 ok 2,1 se andiamo a guardare qua ecco qua vedete 2,1 sono 8 linee al millimetro ok 8 linee al millimetro significa che io vedo sostanzialmente poco più di un decimo di millimetro che se ci fate caso è proprio quello che uno si aspetta dai famosi calcoli dei 300 dpi e cose di questo genere ora abbiamo quindi visto che cos'è questo test USAF ok per inciso quel pezzo di vetro con le barrette di cromo sopra è estremamente costoso e parliamo di 200 euro e però una precisione di costruzione elevatissima bene quindi questo significa che vedete che qui l'immagine non è molto bella perché questa è l'ombra siccome è appoggiato il cromo su uno dei due lati se l'illuminazione è tale da produrre ombre su un oggetto dietro ovviamente si vede l'ombra quindi vedete continuiamo quindi questo ragionamento e quindi perché il nostro scopo è arrivare poi la prossima volta a fare il calcolo dell'MTF cioè dei numeri che sono indipendenti dall'utente questi due sistemi valutazione soggettiva valutazione oggettiva sono quelli che si usano in ambito industriale per caratterizzare i sensori perché vi ricordo che uno degli scopi principali della computer vision a livello industriale che è il mio interesse principale è sostanzialmente il controllo di processo e nel controllo di processo bisogna ovviamente caratterizzare i sensori perché io devo avere la garanzia che il mio sensore sia in grado di misurare quello che io voglio misurare e questi procedimenti soggettivo e oggettivo sono indispensabili diciamo che in casi normali il procedimento soggettivo è sufficiente potrebbe essere necessario anche quello oggettivo quindi vi stavo dicendo che il contrasto può essere o su tutta l'immagine o su aree limitate quando è impossibile distinguere le sbarrette il contrasto è zero notate che queste non sono sinusoidali sono onde quadre quindi non è esattamente la stessa cosa benissimo vedete che qui nella slide c'era scritto cosa succede se io lo proietto e qui è la stessa l'abbiamo visto l'abbiamo visto con la webcam c'è anche dell'aliasing ok allora l'aliasing non normalmente dipende però potrebbe esserci anche questo nel senso che dipende ok l'aliasing in realtà ovviamente si riproduce tranquillamente e possiamo anche vederlo ok perché così come l'abbiamo visto sulle fotografie fatte con la webcam alla mira stampata su carta ovviamente la stessa cosa ce l'abbiamo anche sulla mira adesso vedete ancora 30 secondi vado a prendere un'altra mira ecco qua ora guardiamo allora innanzitutto ho detto via rapidamente questa mira qua e prendiamo questa sempre della Helmond Optics e vedete è una stella di Siemens Star Target vedete e eccola qua anche questa è fatta tecnologicamente nella stessa maniera ora la appoggiamo qua e vediamo se riusciamo a ottenere eccolo lì l'aliasing vedete vedete come è vistoso ora come funziona questa stella di Siemens vedete che ci sono delle delle barrette che hanno una certa larghezza e poi convergono verso il centro nel centro proprio nella parte più centrale non dovrebbe esserci nulla se non ricordo male vediamo se mi riesce ecco qua vedete che continua ad esserci agliasing perché ovviamente il centro è estremamente eccolo lì vedete nel centro più totale c'è un forellino però vedete l'aliasing notate che ovviamente questa mira è costruita con una precisione ottica elevatissima ora questo aliasing è dovuto ovviamente alla alla webcam perché sul pezzo non c'è di sicuro e se ci fate caso è più vistoso in un verso che nell'altro allora questo significa che questa webcam è anche soggetta ad astigmatismo perché ha ovviamente un problema su un'asse più che su un altro bene quindi l'aliasing ci può essere ad esempio con la stella di Siemens che produce addirittura ecco un'altra cosa interessante che produce vedete che una cosa che vedremo la prossima volta vedete che io passo da scuro a scurissimo a chiaro a di nuovo scuro queste si chiamano inversioni cosiddette phase shift cioè il contrasto viene diciamo trasferito non con un numero reale ma con un numero complesso e quindi c'è una parte reale che tra virgolette è la parte resistiva quindi l'attenuazione del contrasto e poi c'è una parte immaginaria che è la fase per cui cambia addirittura intensità e vedete che qui succede esattamente questo ok va bene direi che allora ci possiamo fermare qui e per la prossima settimana partiremo di qui e vedremo quanto serve per il secondo laboratorio grazie per l'attenzione